un assassino dall'abilità quasi demoniaca nasce un percorso di sangue lungo le vie di londra unico inizio i corpi delle vittime mutilati e chiuse in varie già abbandonate nelle stazioni peruviali della metropoli sia pure con l'aiuto del segace criminologo alan twist l'ispettore alcivald arst brancola nel buio finché un anonimo informatore non li mette sulle tracce di forbes rosco agente immobiliare per il caso costruito anche due cugine marge virginia sono alla ricerca dello stesso uomo ma sembra essersi volatilizzato e le due temerari ragazze si ritrovano di corpo in grave pericolo